benvenute e benvenuti a tre pinguini sul sofà la rubrica di libri e letture dell'unione femminile nazionale oggi parliamo di un romanzo la nostra ospite è roberta jasmin catalano scrittrice già autrice di saggi tra cui la felicità è un pezzo di pane e cioccolata conversazioni con tulia carettoni romagnoli nel 2014 vincitore del premio il paese delle donne il romanzo di cui parliamo si intitola la vertigine del possibile ed è la sua prima opera narrativa le protagoniste di questa saga familiare sono due donne maria e rosa una saga ambientata nella calabria del secolo scorso hanno due caratteri molto diversi ma mi sembra accomunati da una cosa rapporti difficili con gli uomini in che modo le relazioni di genere sono materia del romanzo entrano nella narrazione del romanzo beh sono una materia proprio di base del romanzo però è importante ricordarci che non sono relazioni di genere attuali cioè parliamo di un secolo fa questo è molto importante da sottolineare perché sono due donne che sicuramente hanno relazioni molto difficili con i loro mariti io parlo molto di tradimenti ma in realtà non sono così rilevanti perché all'epoca purtroppo era come dire una cosa normale il tradimento più grave che questi uomini hanno operato verso queste donne il fatto di non considerare le persone non erano i loro tradimenti come intendiamo letteralmente la gravità diciamo quello che accomuna queste due donne anche poi il loro loro coraggio nel nel decidere di liberarsi da questi da queste relazioni tossiche infatti il maschile non esce molto bene i personaggi maschili aderenti all'ideologia di genere del loro tempo e questo è stato un messaggio intenzionale che hai voluto dare o è venuto fuori nella farsi della storia no non era intenzionale perché la storia che ho scritto è basata sulla vera storia delle mie antenate quindi diciamo io ho fatto tutto un lavoro di raccolta di ricordi di lettere di documenti eccetera e quindi a mano a mano che la scrivevo mi rendevo conto di quanto questi uomini fossero terribili però ecco ci tengo a dire che non sono tutti terribili gli uomini del libro perché è una è una critica che mi è stata mossa cioè mi è stato detto a però questi uomini non è possibile che siano tutti così terribili e lì in realtà ho capito che era importante aver scritto questo libro perché evidentemente toccava un nervo scoperto ma non sono tutti così cioè il primo marito di rosa era un uomo adorabile adesso senza voler rivelare diciamo che certi innamoramenti di rosa sono diretti a uomini deliziosi quindi chiaramente due protagonisti erano persone pessime nella realtà e io così li ho descritti non era intenzionale però tutto sommato sono contenta che che sia venuta fuori così perché ancora più da ancora più forza a queste donne nell'essere riuscite a ribellarsene come era questa calabria che racconti era una calabria ovviamente molto lontana dalla calabria di oggi anche perché era una calabria nobile cioè io parlo di una famiglia nobile con stemma di famiglia quindi titoli altisonanti e questo rende la situazione ancora più lontana dalla calabria di quell'epoca diciamo che era una realtà particolare in una calabria particolare questo è importante non era certo parliamo di altissima borghesia parliamo di nobili e quindi di un livello nella società in cui ci si aspetta un po più di evoluzione da quel punto di vista invece ovviamente non ce n'era cioè questi uomini facevano i padroni eh senza senza filtre senza limiti pur essendo di una livello sociale e culturale elevato viceversa il controllo del corpo femminile era anche garanzia della trasmissione della del patrimonio ma maria in qualche modo ribalta anche questo stereotipo della donna sottomessa perché ha delle caratteristiche adesso senza svelare il romanzo ma per incuriosirci ehm mi ha colpito questa ambivalenza quindi stare in una ruolo definito socialmente ma con un protagonismo molto forte se vuoi dirci qualche tennellata di questa donna così energica. Lei era una donna energica terribilmente religiosa dico terribilmente perché rasentava il bigottismo eppure eppure è riuscita a come dire a a gestire la sua vita senza sentire che magari stava tradendo quei dettami religiosi che per lei erano così importanti quindi senz'altro il fatto che fosse una donna determinata una donna forte eh l'aiutata l'aiutata anche nella gestione delle cose pratiche cioè all'epoca più che mai pensare a una donna che eredita un patrimonio in termini di terre e sale su un cavallo e va a dare ordine a braccianti maschi nella calabria di fine ottocento insomma possiamo immaginare che reazione ha avuto su questi su questi uomini che si sono visti arrivare un'aliena praticamente però lei tale è stata fino alla fine e invece sulla sul controllo del corpo io direi che rosa ne è stata veramente la rappresentante cioè lei ha subito nove gravidanze per lei andava bene una le altre otto sono state tutte punizioni del marito cioè nel momento in cui lei decideva che voleva una parte nella vita nella società voleva partecipare voleva uscire vivere lui la puniva con una gravidanza e ogni volta lei ne era consapevole perché lei non li voleva non li ha voluti mai in realtà questa storia biografica si è tramandata nella tua famiglia o è qualcosa che hai scoperto cercando di capire di più di questo personaggio era noto perché era una storia talmente particolare cioè avevamo io stessa insomma avevo sentito di questa bisnonna così che possiamo definire una femminista antelitteram coraggiosissima sapevo bene di questa nonna che ho conosciuto rosa era mia nonna e che evidentemente non aveva assolutamente senso materno e non ricordava nemmeno i nomi dei figli però erano così diciamo leggende familiari che alleggiavano poi nel momento in cui ho deciso di di scrivere questo romanzo e quindi di approfondire di più beh è stata molto forte la consapevolezza di chi c'è stato prima di noi che è molto importante secondo me tutti dovremmo farlo al di là poi che uno scriva un libro o meno però capire la storia delle donne che ci hanno preceduto è davvero preziosissimo anche per capire chi erano i nostri genitori cioè da quale patrimonio familiare sono arrivati e quindi capire meglio anche certe asprezze loro e nostre c'è una storia dietro no e soprattutto di donne secondo me è stato molto molto importante proprio al di là del testo letterario ecco e a proposito del rapporto madre figlia che mi sembra sia l'altro grande filo conduttore della storia anche qui vuoi raccontarci qualcosa sicuramente è il rapporto più difficile di tutto il romanzo di tutta la storia c'è non c'è una madre che riesca ad avere un rapporto sereno con la figlia e non ci sono figli che riescono ad avere rapporti sereni con le madri e con i genitori in generale paradossalmente l'unico rapporto madre figlia è quello non biologico cioè rosa viene adottata diciamo a livello sentimentale in maniera elettiva da quest'altra donna che era la sua madrina di battesimo e che le è stata veramente madre cioè lei è la donna che l'ha riconosciuta come persona per le sue passioni per ciò che voleva essere per ciò che voleva diventare per cui se io devo pensare a un rapporto madre figlia penso a loro ma lì non c'entra la genetica non hanno legami di sangue ma nella mia vita ho imparato che quelli sono i legami in realtà più potenti cioè certi i legami più potenti sono spesso quelli che ci scegliamo non quelli che troviamo e questa è stata la prova per quanto riguarda rosa e maria senz'altro un rapporto difficilissimo madre figlia che però ehm in un momento vabbè si può dire perché tanto insomma maria a un certo punto eh muore e nel momento capita e nel momento però ehm in cui lei si spegne si percepisce che in fondo erano più legate di quanto loro stesse non pensassero ed erano anche più simili di quanto non si pensasse ma è un momento è un momento capita quando si chiudono i rapporti in questa in questo modo insomma per le cose della vita capita di capire quante in realtà quanti legami ci siano con quella persona che si è pensato per tutta la vita che fosse tanto diversa e tanto contraria. La storia la grande storia resta sullo sfondo accadono fatti importanti la guerra la dittatura la l'avvento della dello stato repubblicano eh ma questi fatti non sono non entrano direttamente sembra nelle vite dei personaggi è stata una scelta quella di come dire lasciare sfumato questo aspetto della dimensione storica del contesto storico? Eh sì è stata una scelta nella misura in cui mi sembrava importante ehm vedere come in una condizione di alta borghesia quindi di nobiltà eccetera persino la grande storia persino i drammi che pure si vedono passano in secondo piano cioè era come se queste famiglie vivessero in una bolla che tutto sommato non veniva più di tanto toccata cioè loro hanno sfollato in una bellissima villa eh con giardino con tutte le provviste necessarie nessuno di loro è stato chiamato in guerra anzi hanno scelto loro chi mandare chi non mandare questo è terribile cioè questo è un esercizio di potere atroce però loro potevano farlo perché comunque avevano una situazione privilegiata quindi mi interessava anche capire anche io scrivendolo come da privilegiati in fondo la guerra fino a un certo punto. Il finale del libro non lo svegliamo è spiazzante e quindi è un invito a leggere il libro per trovarsi di fronte a questo spiazzamento e te la sei cavata così oppure ci sono segnali che veramente la bisnonna la no allora io devo dire una cosa io ho accettato di scrivere questo libro che all'inizio non volevo scrivere per quella parte finale cioè quella parte finale io la conoscevo però pensavo che fosse uno di quei ricordi un po sfumati dell'infanzia che poi diventano leggende invece facendo le ricerche insomma raccogliendo le varie testimonianze era più che vera questa parte e io mi sono detto io da scrittrice siccome non sono una biografa non sono una storia io non posso non scrivere una storia che termini in questo modo che ovviamente non dirò quale sia però è un modo che da scrittrice mi fa impazzire ed è anche un modo aperto in realtà nel senso che puoi interpretare tu quale fosse davvero la situazione ecco bene ti sei divertita a scrivere questo libro no no è stato molto doloroso è stato molto difficile perché è un genere che non mi appartiene io non di solito scrivo racconti o comunque il mio genere è onirico di grande introspezione psicologica mi piace più questo del narrare i fatti diciamo reali quindi per me è stata un po una tortura soprattutto all'inizio poi dopo dopo invece più mi avvicinavo a quel finale più ho cominciato a sentirlo mio e sì la parte finale mi è piaciuta molto scriverla perché poi è proprio la come dire è la prova eclatante della possibile liberazione ecco per non dire di più ti ringraziamo per avere partecipato a questo ciclo di presentazioni e buon lavoro grazie grazie mille a presto grazie mille a presto